Arriva in treno da Pesaro dove abita per insediarsi nel Palazzo d'Ancona, il neopresidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli. Scelta ecologista ma soprattutto un omaggio alla sobrietà, che come aveva annunciato in campagna elettorale, sarà la caratteristica del suo mandato. In treno, sì. Un impegno preso con gli elettori proprio nelle prime uscite della campagna del primario addirittura. È stata una risposta a una domanda, mi ha chiesto come pensa Dio, non ci avevo pensato, la prima cosa ho detto, ma penso in treno. È diventato un impegno e mi sembra una cosa anche bella, un bel segnale, un modo di muoversi rispettoso dell'ambiente e anche vicino a quell'idea di sobrietà che i marchigiani ci chiedono. L'insegnante di matematica oggi ha tenuto una conferenza stampa che abbiamo trasmesso in diretta su Fano TV e Pesaro TV e in cui ha affidato ai giornalisti le prime riflessioni. Come primo atto racconta la firma di due nomine, quella della portavoce Tala Savona, giornalista che lo ha seguito in campagna elettorale, e del caposegreteria Fabio Sturani, ex sindaco di Ancone e attuale presidente del CONI Marche. Da lunedì poi Ceriscioli sarà al lavoro per incontrare gli alleati e formare la nuova giunta, che potrebbe essere presentata insieme al programma il prossimo 22 giugno, quando si terrà il primo consiglio regionale. Già oggi l'agenda è piena, ha detto Ceriscioli, ma sono arrivati anche i primi problemi, le priorità. Inoltre sono diverse, ha precisato, e il primo dei dirigenti ad essere contattato sarà quello al bilancio. Innanzitutto rispettare quell'impegno sulla sobrietà, su un uso attento delle risorse che la politica spende, perché è il primo livello di avvicinamento ai cittadini. Se c'è un obiettivo che abbiamo tutti quanti è quello di essere più vicini. Secondo, lavorare da subito invece su quel cambiamento che è stato promesso, dalla riorganizzazione della macchina regionale per traguardare nuovi obiettivi all'incontro con quelle che sono le strutture più importanti, insomma, che presidono le politiche regionali per poter avviare quel cambiamento di cui abbiamo parlato per tempo. Quindi leggi più semplici e più snelle per quanto riguarda il sistema normativo, una capacità di corrispondere nei termini di servizi, soprattutto quelli legati alla salute, ai bisogni della nostra comunità, un'economia che ha bisogno di una ripartenza e quindi metterà a disposizione le risorse di fondi europei il prima possibile. Ceriscioli, che preferisce farsi chiamare presidente e non governatore, ha sottolineato la necessità di riorganizzare la sanità e abbreviare le liste d'attesa. A fine conferenza invece è intervenuto sul tema della comunicazione. Ha detto che sarà presente anche sui social network, però con un profilo molto istituzionale. Sì, il più possibile istituzionale, anche se gli spin doctor comunicativi chiedono di farlo più amichevole perché è un po' il linguaggio dei social, ma pensando il social come una modalità contemporanea per dialogare con i cittadini, far conoscere le cose che la Regione fa, raccogliere da parte loro i suggerimenti, le indicazioni che vorranno dare. Quindi un modo per partecipare 2.0 alla vita della Regione.